don chisciotte della mancia libro primo capitolo quarantaseiesimo ancora della stravagante maniera con cui fu incantato don chisciotte lessi già disse don chisciotte quando si vide ingabbiato a quel modo e messo sopra il carro molte gravi storie di cavalieri ranti ma non ho letto né veduto né udito mai che sieno stati in tal quisa condotti gli incantati cavalieri né con la lentezza propria di questi infingardi e melensi animali furono sempre portati per aria con incredibile rapidità rinchiusi in qualche nube oscura o di color cinerognolo ovvero sopra qualche carro ipogrifo o d'altro similiante animale non posso intendere come io abbia vedermi trascinato adesso da un carro tirato da voi ma chissà che la cavalleria e gli incanti dei nostri tempi non abbiano preso una piega diversa da quella degli antichi potrebbe anche darsi che essendo io come lo sono nuovo cavaliere nel mondo ed il primo che ha risuscitato l'esercizio già disusato dell'errante cavalleria si esim per la stessa ragione inventati nuovi generi di incantesimi e nuove forme di condurre gli incanti che te ne sembra sancio figliuolo non saprei che rispondere disse sancio perché non so un'acca delle scritture cavalleresche peraltro ardirei affermare e giurare ancora che tutte le visioni alle quali noi andiamo incontro non sono pienamente cattoliche ma altro che cattoliche che dio ci aiuti rispose don chisciotte come possono esserlo mai se non si tratta che di demoni i quali hanno pigliati corpi fantastici per operare si fatte stravaganze e guidarmi a si deplorevole situazione e se tu vuoi conoscere infatto una tale verità toccali palpali e vedrai che non hanno corpo se non se d'aria e non sono che mere apparenze viva dio replicò sancio io li ho toccati o signore e questo diavolo qui il quale cammina con tanta prestezza ha una carne soda come una pietra e in questo ancora è differente da quello che ho inteso dire dei diavoli perché io so che essi puzzano di zolfo e di altri pessimi odori ma costui da un'eccellente fragranza d'ambra che si sente mezza lega lontano sancio indica così don fernando il quale come delicato signore sole a mantenersi olezzante della persona non fare punto le maraviglie amico sancio rispose don chisciotte perché ti assicuro che anche i diavoli tengono dei profumi e ne sogliono portare seco ma non possono tramandarli a noi per essere spiriti o seppure ne tramandano non sono mai grati ma fetidi e puzzolenti e la ragione si è perché portano seco l'inferno dovunque vanno e non debbono trovare mai sollievo di sorta alcuna dai loro tormenti la onde poiché il grato lezzo è una cosa che soddisfa e diletta non è possibile mai che ne siano in possesso e se pare a te come dici che questo demonio odori di ambra o tu certamente ti inganni o egli vuole ingannarti affinché tu non tenga per un demonio passarono tutti questi colloqui tra padrone e servitore e temendo don fernando e cardenio che sancio non colpisse nel segno rispetto alla loro invenzione di cui lo vedevano già entrato in sospetto determinarono di affrettare la partenza chiamando perciò a parte l'oste gli imposero che insellasse ronzinante e mettesse la bardella al giumento di sancio il che egli tosto esegui aveva frattanto il curato patteggiato con gli sgherri perché accompagnassero don chisciotte sino alla sua terra contribuendo loro un tanto per giorno cardenio attaccò da un lato dell'arcione della sella di ronzinante la targa e dall'altro il bacino poi con cenni comandò a sancio che montasse sul suo asino e che prendesse ronzinante per la briglia e collocò ai due lati del carro due sgherri coi loro archibusi prima che il carro si muovesse uscirono fuori lo stessa sua figlia e maritorna per prendere licenza da don chisciotte fingendo di piangere per compassione della sua disgrazia egli disse loro non piangeteno mie buone signore che tutte queste avversità sono così consuete alla profissione che io esercito e se non mi accadessero tante traversie non porterei il vanto di famoso cavaliere errante perché cavalieri di poco conto e di poca celebrità non avvengono di similianti sciagure non essendovi al mondo chi mai li rammenti sono riservate i valorosi come a coloro che sono invidiati da molti principi e da tanti cavalieri che tentano nuocere i meritevoli con i mezzi più indiretti e maligni la virtù sola e a onta di ciò si possente che da per sé e a dispetto di quanta negromanzia fosse mai saputa dal suo primo inventore zoroastro sino a noi riuscirà a salva ad ogni pericolo e darà di sé così chiara luce al mondo come la dà il sole al cielo perdonatemi belle dame se per qualche mia trascuraggine vi avessi apportato dispiacere che di animo deliberato non so di averne mai fatto alcuno e pregate Dio che uscire mi faccia da questa prigione dove mi ha posto un qualche incantatore perverso se un giorno n'escirò libero non mi fuggiranno già mai dalla memoria i favori da voi dicevuti in questo castello e vi mostrerò la mia gratitudine col servirvi e ricompensarvi come meritate nel tempo che le supposte dame del castello conversavano con Don Quixote il curato e il barbiere si accomiatarono da Don Fernando e dai compagni suoi dal capitano da suo fratello e da tutte quelle contente signore e specialmente da Dorotea e da Lucinda e si abbracciarono tutti promettendosi a vicenda di darsi notizie dei loro successi Don Fernando indicò al curato dove potesse scrivergli per informarlo come la sarebbe finita in riguardo a Don Quixote assicurandolo che gli sarebbe riuscito graditissimo laverne le nuove e che egli poi gli avrebbe dato ragguaglio di tutto ciò che poteva soddisfarlo così rispetto al suo maritaggio come al battesimo della bella Zoraida all'affare di Don Luigi ed al ritorno di Lucinda in seno alla sua famiglia si impegnò il curato di eseguire con ogni esattezza quanto gli veniva raccomandato reiteraronsi gli abbracciamenti una e più volte e rinnovaronsi reciprocamente le gentili offerte l'oste si accostò al curato e gli consegnò alcune carte dicendogli di averle trovate nella fodera del valigiotto dove stava la novella del curioso indiscreto e che non essendo più tornato il suo padrone a recuperarle se le recasse pure con sé non facendone egli vero un caso per non saperle ben decifrare le aggradì il curato e spiegandole sull'istante vide che in fronte degli scritti leggevasi novella di ricometto e cortadiglio immaginando che si trattasse di qualche piacevole storietta ed avendo molto gradito l'altra del curioso indiscreto suppose che anche questa lo avrebbe soddisfatto potendo darsi che fossero state composte ambe e due da un medesimo autore la tenne dunque custodita riservandosi di farne la lettura a tempo più opportuno monto a cavallo e così pure il barbiere suo amico ambe due involti nei loro pappaficchi per non essere così presto riconosciuti da Don Quixote camminavano dietro il carro con l'ordine seguente prima era il carro guidato dal suo carradore ai due lati lo accompagnavano gli sgherri come si è detto coi loro archivusi veniva poi Sancio Pancia sopra il suo asino tenendo la briglia di ronzinante ed ultimi erano il curato ed il barbiere a cavallo delle loro grandi e poderose mule con le facce tutte coperte e con grave e serioso contegno adattandosi al tardo passo dei buoi stava Don Quixote seduto nella gabbia con le mani legate coi piedi distesi ed appoggiato alle grate si taciturno e paziente come se non fosse stato uomo di carne ma statua di pietra con lentezza e in silenzio viaggiarono per oltre due leghe finché giunsero ad una valle che parve al carradore sito opportuno per prendere qualche riposo e pascere i buoi lo disse al curato ma il barbiere fu di avviso che seguitassero il cammino ancora alcun poco sapendo egli che dietro a un poggetto che scorgeva si poco discosto vi era altra valle fornita di erba molto migliore fu accolto il consiglio del barbiere e continuarono il viaggio intanto volgendosi addietro il curato vide sei o sette uomini a cavallo bene assettati e vestiti i quali presto raggiunsero il convoglio perché marciava con la lentezza dei buoi uno di costoro che era un canonico di Toledo e il padrone di tutti gli altri che lo accompagnavano vedendo la benordita processione del carro degli sgherri di sancio di ronzinante del curato del barbiere e più di ogni altro di Don Quixote ingabbiato ed imprigionato non poté a meno di non domandare che cosa significasse condurre un uomo a quel modo benché si fosse immaginato nel vedere la sbirraglia che dovesse essere colui un qualche facinoroso o assassino di strada o altro cattivo soggetto così castigato dalla santa ermandada quello tra gli sgherri cui venne fatta la dimanda rispose signore neppure noi sappiamo che voglia significare un tal modo di condurre questo cavaliere né alcuno meglio di lui stesso ve lo potrà dire udì Don Quixote il discorso e soggiunse di grazia le signorie vostre signori cavalieri sono eleno versate e perite in materia di errante cavalleria se lo sono io darò lor conto delle mie disgrazie ma in caso diverso non perderò il mio tempo in inutili ciarle si erano già avanzati in questo mentre il curato ed il barbiere vedendo Don Quixote in discorso coi passeggeri a fine di rispondere egli no in modo che non si scoprisse il loro artificio il canonico a cui Don Quixote aveva indirizzato il discorso rispose se ho da dirvi il vero grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.